C'è chi aspetta un nuovo rialzo di tassi, chi invece pensa che siamo giunti al termine del percorso di innalzamento monetario? Cosa fare sui mercati? Beh ce lo dicono i protagonisti di House of Trading. Allora la mia prima strategia è una strategia ribassista, mi sto durantizzando, mi sto durantizzando nel senso che ho deciso appunto di prendere anch'io una strategia di carattere ribassista e ho scelto anch'io un indice quindi come prima carta mi gioco una carta rossa sul Nasdaq 100 quindi ero indeciso se fare appunto il Nasdaq poi ho visto che l'aveva messo Nicola quindi ho detto vado su uno strumento differente ho detto prendo il Nasdaq 100. Allora l'idea qui di fondo è quella non si può salire all'infinito secondo me il mercato ha la necessità di prendere una pausa dai livelli attuali il mese di giugno tendenzialmente sono andato a vedere anche a livello di stagionalità non è particolarmente performante quindi secondo me nelle prossime giorni le prossime settimane potrebbe arrivare appunto una correzione una correzione che non mi aspetto che sarà una correzione così significativa però una correzione che mi consente di poter entrare ti do i livelli te li do subito li prendo in questo momento allora dunque il livello di ingresso a 14.550 si fa riferimento ai prezzi spot anche per la prossima carta utilizzeremo i prezzi spot lo stop loss andiamo a posizionare a 14.800 punti il target ovviamente se dovesse partire lo short sono d'accordo con Nicola Duranti che sarebbe diciamo è molto probabile vedere una correzione più profonda di quello che è il target che posto a 14.100 punti però visto che dobbiamo recuperare insomma io lo metto sopra i 14.000 punti per cercare di andare a prendere un punticino. Ti è piaciuta questa strategia? Bene iscriviti al canale BNP Paribas attiva la campanella e rimani sempre aggiornato sulle operazioni proposte dei trader e degli analisti che vedete sfidarvi ogni settimana alle 17.30 a House of Trading. Grazie a tutti.